Abbinare correttamente i cibi per non rinunciare ai poteri nutrizionali di ciascuno ma riducendo al massimo il rischio di carie in base proprio agli abbinamenti. È la nuova frontiera della lotta alla carie. A portarle avanti la quindicesima edizione del mese della salute orale colgate Sido che a Palermo è stato tenuto a battesimo dallo stand nel mercato rionale CIE di Bonagia. All'interno un igienista che ha fornito notizie sul corretto spazzolamento a chi si è fermato al banchetto, una hostess che ha prenotato visite gratuite eseguibili per tutto il mese di marzo e un nutrizionista per fornire notizie sulla piramide alimentare e dunque sull'accoppiamento dei cibi cariogeni e cariostatici. L'importanza è quella di fare prevenzione e il nostro obiettivo è Carie Zero. Infatti diamo la possibilità ai nostri cittadini di effettuare delle visite gratuite dal 1 marzo al 31 marzo e a proposito abbiamo realizzato, insieme all'associazione Sido e Colgate, una piramide odonto-alimentare proprio dove vengono descritti tutti gli alimenti cariogeni, cariostatici e anticariogeni. Però questi alimenti cariogeni non vuol dire che vengono eliminati dalla dieta perché comunque sono fondamentali per il nostro organismo, soltanto diamo delle indicazioni come poter abbinare meglio questi alimenti cariogeni con quelli anticariogeni e cariostatici per diminuire l'incidenza della carie. La pera coscia o coscia di monaca è stata indicata come prodotto star nel paniere della spesa salvadenti. Proviene dalla zona dell'Etna e ha proprietà anticariogene non tanto per la sua struttura chimica ma per la sua azione meccanica di rimozione dei residui di cibo. L'importanza è fare prevenzione primaria cercando di dare delle informazioni ai cittadini di come diminuire l'incidenza della carie attraverso delle sedute di igiene orale e attraverso una educazione alimentare. Come ogni anno inoltre fino al 31 marzo basterà navigare sul sito www.prontodentista.it cliccare nella sezione trova il tuo dentista Sido, individuare il dentista ortodontista più vicino e fissare gratuitamente una doppia visita odontoiatrica e ortodontica per l'intera famiglia. Nello studio del dentista si potrà eseguire un test salivare. Il test non ha finalità diagnostiche ma è utile per misurare il grado di infiammazione nel cavo orale dovuto alla carica batterica presente e ricevere il diario alimentare per tracciare le proprie abitudini alimentari e l'impatto sull'igiene orale imparando a bilanciare correttamente nel corso della giornata i cibi cariogeni, cariostatici e anticariogeni e contribuire a ridurre il rischio di sviluppare carie.